All'indomani della sentenza del processo d'appello dell'inchiesta metastasi che ha visto la condanna a 15 anni e 6 mesi di carcere di Mario Trovato, fratello del boss Franco Cocco Trovato, l'interdittiva antimafia eseguita in queste ore dalla Prefettura non arriva certo come un fulmine a ciel sereno. A chiudere il noto caffè cermenati nella centralissima piazza di Lecco che si affaccia sul lago. La comunicazione attraverso una scarna nota del Comune che ha provveduto a notificare ai titolari il provvedimento di divieto immediato di prosecuzione dell'attività della società laureande SRL che ha in uso i locali del bar. Quanto sopra in esecuzione dell'informazione interdittiva antimafia trasmessa dalla Prefettura di Lecco all'amministrazione essensi dell'articolo 89 della legge antimafia e relativa ai requisiti in capo ai soggetti titolari dell'esercizio si legge nel comunicato. La società sarebbe riconducibile a componenti della famiglia Marinaro legata da parentela a Franco Cocco Trovato condannato a quattro ergastoli. Nei mesi scorsi un'altra pizzeria era stata chiusa sempre con un'interdittiva o giono e questa ordinanza era stata in qualche modo attesa e annunciata. Fino a poco tempo fa alla laureande SRL faceva capo anche un altro locale del centro che però negli ultimi mesi ha cambiato proprietà. Ulteriori accertamenti sono in corso e la chiusura del caffè cermenati potrebbe non essere l'ultimo provvedimento di questo tipo. I titolari che all'arrivo della polizia locale hanno immediatamente ottemperato all'ordinanza abbassando loro stessi le serrande potranno comunque presentare ricorso. Nella città che a inizio aprile ha visto l'inaugurazione della pizzeria della legalità assorta nei locali sequestrati a Cocco Trovato 25 anni fa, la chiusura del bar Cermenati fa rumore.